Il circolo tennis Giotto si trova all'interno della cittadella dello sport di Arezzo. Le strutture sportive occupano una superficie di circa 4 ettari. Fondato nel 1981, il circolo è un punto di riferimento per tutti coloro che amano il gioco del tennis. Noi siamo un circolo, un circolo di tennis fondamentalmente, anche se poi negli anni ci siamo sviluppati anche in un ambito molto più sociale. È un circolo per soci, abbiamo una struttura che è un parco molto bello. Al momento le strutture sportive sono 8 campi da tennis, 2 campi da pad, abbiamo 2 campi da beach tennis, la piscina nel periodo estivo, palestra, zona ristorante, clubhouse, insomma una zona per famiglie per riuscire a passare il proprio tempo libero in armonia. Il circolo è da sempre molto attivo nell'attività agonistica con risultati davvero eccellenti. Ci teniamo molto, faccia conto che il circolo nel 2021 è stato il 17esimo circolo in Italia per risultati sportivi su 3.700 circoli presenti, quindi un ottimo risultato per noi soprattutto perché competiamo con realtà enormi delle grandi città. Abbiamo vinto più di 50 titoli toscani negli ultimi anni, più di 11 titoli italiani e questo è frutto del lavoro quotidiano. Abbiamo una scuola molto importante, quest'anno abbiamo superato i 360 iscritti, tra questi ci sono una cinquantina di agonisti e spendiamo molto del nostro tempo per riuscire a eccellere sempre ogni anno e poi teniamo molto le squadre, competizione a squadre quest'anno la prima squadra maschile è riuscita a conquistare la promozione in Serie A2, le ragazze hanno conquistato la promozione in Serie B1, abbiamo più di 20 squadre partendo dall'under 10 fino ai grandi, quindi un movimento diciamo un po' per tutti, sia per l'avviamento al tennis sia per il tennis di vertice. Il tennis è alla portata di tutti, è lo sport ideale per giovani e meno giovani, un'attività salutare da vivere spensieratamente con gli amici. È uno sport per tutti sicuramente, abbiamo soci adulti che continuano a giocare, bambini cominciano dai 4 anni, sicuramente è uno sport che accompagna per tutta la vita, altri sport magari più traumatici o più complessi a livello organizzativo, dopo un po' vengono abbandonati, noi abbiamo la fortuna che siamo un po' per tutte le età. 40 anni di attività sportiva e di grandi traguardi, ma il circolo tennis e giotto guarda al prossimo futuro. L'anno prossimo grazie al cielo facciamo queste competizioni di altissimo livello, A2 e B1 a cui teniamo particolarmente e poi l'intento è quello di riuscire a continuare a mantenere questo livello che oramai sono un po' di anni che riusciamo a mantenere e la speranza è quella di riuscire a competere sempre lì.